Cari allievi, insegnanti e famiglie dell'Accademia Suzuki di Torino, nei lunghi giorni di attesa che le cose migliorino qui a Chiaverano, abbiamo pensato di fare un omaggio facendovi gli auguri di Natale, pensando che il prossimo anno, augurandoci che il prossimo anno sia migliore. Attingendo alla cultura del canavese dove noi ci troviamo, non possiamo non pensare al grande compositore Pietro Alessandro Ion, di cui voi conoscete Gesù Bambino, ma noi oggi abbiamo pensato invece di mettere Veni Emanuele, la musica natalizia composta da Pietro Alessandro Ion, e incastonare in questa composizione semplice l'acrostico che una notte ho pensato di scrivere sulle parole Metodo Suzuki. Movimento educativo per piccoli e grandi che accompagna la vita con la musica, Embrione di armonia tra i popoli. Tessuto di valori morali e spirituali nei giovanissimi, oasi di vita sana e di amicizia vere, Dottrina che ci unisci e ci perfeziona, Ode alla musica, medicina dell'anima. Sostegno a chi soffre perché con la tua musica aiuti chi è solo. Urla il tuo dolore perché tanti bambini non possono cantare, suonare e non vanno a scuola. Zelo, disciplina, studio, gioco, amore e soleridità sono gli ingredienti della tua giornata. Ubbidisci al tuo cuore, fai musica, dona musica e il mondo sarà migliore. Chi rieleiso, perdona, Signore, chi ferisce l'infanzia, chi sfrutta i bambini. Il Dio ti aiuti e ti conservi sano e felice, senza smartphone e televisione. E come disse all'Orchestra Suzuki di Torino, durante un concerto in Piazza San Pietro, Madre Teresa di Calcutta, l'augurio migliore è che la musica ti protegga, caro ragazzo che studi musica, e ti porti in paradiso.